La canzone è una scatola magica, spesso riempita di cose futili. 80 anni di Francesco Guccini, vissuti con coerenza e intensità, grande cultura, passione, ironia. Uno che sa benissimo da che parte stare, ma coltiva il dubbio, da uomo libero nemico di ogni dogma, anche adesso nei libri che continua a scrivere, l'ultimo tra l'umme scuro e nella cinquina finalista del Campiello. Li facciamo gli auguri con la sua musica da uno speciale TG1, realizzato da Vincenzo Mollica. Sono morto, con altri cento, sono morto, però bambino, penso che questa mia generazione preparata ha un mondo nuovo, una speranza appena nata. E poi alla fine della canzone ho detto, ma un momento, manca qualcosa. E mancava la prima strofa che è stata l'ultima che ho scritto della canzone. Non so che riso avesse. Nel bene e nel male è conosciuta anche le scuole medie ed elementari. Sono tutto questo. Nel bene e nel canzone.